Oroscopo del giorno. Sabato, 2 giugno, 2018. Ariete. Amore, ancora qualche incomprensione torna a turbare la routine quotidiana. Cercate il chiarimento e vedrete che tutto si sistemerà con il tempo. Novità in vista per i single spira, nuovi incontri e buone possibilità di innamorarsi per chi cerca lamore. Lavoro, lenergia non vi manca e la grinta nemmeno, perciò ogni cosa che farete potrà essere condotta al meglio per avere successo. Toro. Amore, siete un po' testardi e quando vi fissate su qualcosa difficilmente vi smuovete. Il vostro atteggiamento dispotico con la persona amata rischia di rallentare il rapporto. Molti single oggi saranno animati da una grande passione e da forti emozioni. Lavoro, oggi al lavoro dovrete concentrarvi al massimo, certi impegni richiedono molta attenzione e non dovete distrarvi. Gemelli. Amore, ottima giornata per fare progetti di coppia, i cuori sono all'unisono e per chi desidera rafforzare l'unione si preannunciano tempi favorevoli. Anche i single avranno voglia di fare progetti, ma si tratterà di vacanze e divertimento. Lavoro, affronterete ogni emergenza con grande serenità e riuscirete a risolvere ogni problema che vi porranno. Cancro. Amore, se i problemi che avete avuto nei giorni scorsi sono di poco conto li supererete con molta facilità. Bando ai dubbi e agite sicuri e certi di essere amati. I single potranno avere tante opportunità per vivere una nuova storia, ma è necessario voltare pagina. Lavoro, giornata molto scorrevole, ottime opportunità in arrivo, utili per cambiare ruolo, per trovare impiego o migliorare le entrate. Leone. Amore, giornata di scontri con chi vi sta vicino, ma non temete, confrontarsi a volte è meglio che accettare passivamente. In questo modo potrete esporre le vostre ragioni. I single dovranno tenersi fuori da situazioni imbarazzanti, meglio evitare strani incontri. Lavoro, darete il meglio in ogni situazione lavorativa, avete voglia di emergere e di dimostrare le vostre capacità. Virgine. Amore, oggi avrete lopportunità di dialogare con la persona amata e risolvere ogni questione senza alzare i toni. La calma è la virtù dei forti, ricordatevelo. I cuori solitari avranno la luna a loro favore e tante occasioni per cambiare in meglio la loro vita. Lavoro, con un buon piano e tanti buoni propositi potrete uscire da una situazione finanziaria complicata. Abbiate più fiducia in voi stessi. Bilancia. Amore, nelle coppie stabili larmonia fa da padrone e anche le crisi più forti saranno lasciate alla spalle. Come al solito, c'è qualche incertezza che vi impedisce di essere sereni. Tante belle novità per i cuori solitari, alcuni flirt potranno sbocciare e proseguire verso mette nuove. Lavoro, la vostra capacità d'impegno e di mantenere fede alla parola data vi aiuterà a sbrigare bene tutti gli impegni. Scorpione. Amore, se state provando un forte sentimento non dovete aver paura che tutto finisca da un momento all'altro. Fidatevi della persona che avete accanto. I single potranno avere qualche piccolo problema ma per fortuna non saranno questioni troppo importanti. Lavoro, oggi sarete invincibili e i vostri consigli saranno determinanti per mandare avanti alcuni progetti lavorativi. Sagittario. Amore, oggi sarà una giornata ricca di emozioni e slanci passionali. Serata movimentata, incontri con amici e persone che non vedete da tempo. I single vivranno momenti romantici con la persona desiderata, ma ancora è presto per capire se si tratta di qualcosa di serio. Lavoro, sarete distratti e poco inclini a sostenere impegni gravosi, ma il dovere vi chiama e non avete alternative. Capricorno. Amore, chi sta vivendo un rapporto sincero avrà buone prospettive di continuare senza interruzioni. Siate amici prima che amanti, e tutto andrà per il meglio. I single potranno sperare in un periodo più stabile, la voglia di amare è davvero tanta. Lavoro, i traguardi che intendete raggiungere sono forse un po' lontani, ma desistete e la vostra tenacia vi premierà. Acquario. Amore, ottimo periodo per vivere relazione alla luce del sole e di cui siete pienamente convinti. Grazie ai sentimenti che provate tutto vi sembrerà idilliaco. Per i single si apre una fase di grandi iniziative, tutto nascerà sotto una buona stella. Lavoro, per chi ha una professione o un'attività autonoma sarà una giornata positiva, i contatti e le collaborazioni miglioreranno. Pesci. Amore, qualche piccola scaramuccia per futili motivi sarà una cosa del tutto normale, specie se tra due innamorati c'è un grande sentimento. I single potranno iniziare un corteggiamento dopo aver avuto il permesso della persona interessata. Allora sarà un sì. Lavoro, superate le prime difficoltà, oggi sarete decisi a mantenere ben salda la vostra posizione e intendete difenderla. Lavoro, superate le prime. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.